Ciao a tutti ragazzi, oggi giocheremo a Roblox, però senza la Samuele. Oggi giocheremo a Super Hero Tycoon. Il Tycoon è il tipo che tu dalla cassa prendi i soldi del gioco, ovviamente, e potrai cliccare i bottoni che ti permetteranno di guadagnare altri soldi, così che potrai... E vabbè, è questo il Tycoon. Allora, dobbiamo scegliere, possiamo scegliere tra Flash, Ant-Man, che non so che supereroe sia. Tra Superman, che però è già occupato, anche Capitano America è occupato, anche questo qua è occupato, però siccome c'è il sottofondo musicale, io abbasserò la multimedia. che è già occupato, poi c'è Kikloren. E perché mi ha acchiappato? Non mi poteva mica portare la... Open questo, cos'è? Vabbè, lo osso questo. Allora, chi è che mi sta ammazzando? Superman è occupato, Capitano America è occupato. Restano questi due. Anche questo è occupato. Vabbè, Flash o Ant-Man? Io scelgo Flash. Però il mio supereroe preferito è Spider-Man. Ok, Summi... 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 Summi 30B, Ticon. Allora. Questo è gratis. Perciò inizierà qua a fare materiali, molto lentamente. Vedete? E con i materiali che si fanno... Ovviamente è sempre più veloce. Perciò con i materiali che si fanno... Di YouTube... E... Devo dire... Dei supereroi... Noi possiamo guadagnare... I cosi. Ma chi è questo? Dai, raga, ma perché vi teletrasportate da me? Non ve ne potete andare. Eh, ma mi scusi? Mi scusi, se ne puoi andare... Ok. Ma non si può fare i cavoli suoi? Se stai guardando questo video... Sappi che... Che niente... Dai, basta, va... Mi scusi, se ne puoi andare? Raga, mi scusi, se ne puoi andare... Mi scusi, se ne puoi andare... Ok, allora... Brutto, se stai guardando questo video... Sappi che ti verranno a cercare... Mentre dormi... Mentre dormi, scherzo... Vabbè... Dai, prendi i soldi, prendi i soldi... Ok... Ne abbiamo tanti... E ora che si fa? Quelli rossi non li dovete cliccare... Perché... Sennò vi fa il costo dei robux... Oppure dove c'è scritto... Extra... Allora, abbiamo preso anche questi... Ok... Vabbè, solo quando c'è scritto una cosa diversa sopra... Non so perché... Ma prima... Mi ha detto... Ok... Qui sotto c'è scritto quanti ne avete... Io ne ho 259... Ti prego... Non venire... Non venire... Raga, è venuto di nuovo quello che mi disturba... Ma è possibile, raga... Raga, è possibile... Poverino a tutti quelli che sta prendendo... Così non è possibile... È insopportabile... Vabbè... Allora... Dov'è il pallino arancione? Ecco... Qua ce ne vogliono 700... Noi ne abbiamo 78... Raga... Ci sta rompendo le scatole... Fatele andare via... Ma dai... Balla anche... Ehm... Raga... Ma dai... Ti puoi togliere? Grazie... No... No... Ma perché non va a rompere le scatole a qualcun altro? Balla anche... vai via 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 io ti ballo in testa boom 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 batti le mani schiocca le dita umore alto tutta la vita ma te ne puoi andare allora raga mi sto scollegando e ricollegando perché se lui io ci ho provato con le buone maniere e ora ci provo con le cattive maniere allora andiamo super erotico speriamo che non c'è lui magari non mi riconoscerà più allora allora là ce n'è uno libero andiamo qua chi c'è basta che c'è un super eroe libero iron man fa ce ne sono altri chi loren no 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 mio 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 vai via dai ragazzi che mi rompono le scatole ma ve ne potete andare seriamente ve ne potete andare per due crash cos'è vedete roba ho cinque crash qui ne servono 150 Allora 55 E io resto sempre qua Dai, basta, 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 basta Perché c'hanno sti cosini che ti prendono Raga ma Insopportation Insopportation Raga Comunque lo scopo di questo gioco un po' l'avete capito Però se tutti mi rompono le scatole così Allora io cambio mappa direttamente Cioè Speriamo che ora Ci fanno lavorare in tanta pace Allora Ti prego non venire Fai che non hai nessun omino Per favore C'è un omino Ma mi uccide con lo sguardo sto qua Niente raga Però Spero che lo scopo di questo gioco Lo abbiate capito Ciao Bye